mi sembra pericoloso che pazienza non c'è campo wow, siamo nel nulla neanche il mio prende è bucolico e neanche il mio era l'unica bussola almeno tu ce l'hai il telefono non è morto perché un idiota l'ha tirato dentro una brocca preferivi svelare quello che stavi per svelare? ehi, mettiamo i telefoni dentro questa bustina così siamo liberi di non romperci e controllarli ogni secondo è una cosa saggia sì, restiamo offline per tipo due interi giorni due giorni interi mi sa che non è una buona idea coraggio ah, e vai coraggio, infila in ogni caso io ho una bussola per non perderci plof no, no, no no, no hai fatto una cosa cafuna e stupida e ci serviva anche non ci serve boom chi serviva per ritrovare la strada? dobbiamo perderci Se c'è la bussola nella borsa, la signorina starà sempre a dire Contralla la bussola, contralla la bussola, è inaccettabile La bussola muore, noi rinasciamo Ma è troppo pericoloso Ovvio che è pericoloso, Simon Ce ne andiamo fuori pista Ci sarà anche Stellan Skarsgård in Avengers Age of Ultron Lo sapevate? Sì, lo ha confermato proprio l'attore Anticipando che riprenderà il ruolo del dottor Erik Selvig Skarsgård non ha voluto rivelare molto sulla sua partecipazione al film Ma ha detto che ancora una volta sarà senza vestiti Come era già capitato per Thor The Dark World La release di Avengers Age of Ultron è fissata ad aprile 2015 Per oggi è tutto, ci vediamo presto con altre novità Ciao a tutti